Sì, il fine settimana è stato molto intenso, si è avuto un'attività di controllo e ci sono state anche insieme alle altre forze polizie alcune sanzioni, soprattutto per il Green Pass. È stato un fine settimana di super lavoro per le forze dell'Ordine Aretine in merito ai controlli sul Green Pass e Super Green Pass nel centro storico di Arezzo preso letteralmente d'assalto. Sono numeri da capogiro quelli che si ipotizzano e che sfiorano le 200.000 presenze in occasione del terzo weekend della città del Natale. In tutto 5 le pattuglie della Polizia di Stato impegnate assieme a Polizia Municipale e Guardia di Finanza. Le zone interessate del maggior afflusso sono state Via Cavour, Piazza della Badia, Piazza Sant'Agostino, Piazza San Francesco, Piazza Guido Monaco, Piazza del Popolo e ovviamente Piazza Grande. Complessivamente sono state identificate 281 persone controllati e 22 esercizi pubblici dove è stato verificato il possesso del Green Pass ai presenti. Due le multe elevate dalla Polizia di Stato e cinque quelle invece elevate dagli agenti della Polizia Municipale. In un caso sono state riscontrate irregolarità all'interno di un locale. Sono stati individuati e sanzionati un cliente e il proprietario perché entrambe risultati sprovvisti del Super Green Pass. Al titolare inoltre è stata contestata anche la violazione per non aver controllato il possesso del certificato verde.